Prosegue la mobilitazione di Uncem per scongiurare il blackout televisione comune ai montani dopo il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale che in Toscana è stato anticipato dal governo al prossimo novembre e secondo nuovi criteri di assegnazione delle frequenze. Sono almeno 700.000 toscani residenti in zone collinario di montagna che potrebbero rimanere per mesi senza televisione, per non parlare delle emittenti locali che già in affanno per gli investimenti economici richiesti dalla nuova tecnologia rischiano di non tenere in tempo neppure le autorizzazioni necessarie. Uncem in Toscana ha avviato un monitoraggio in 80 comuni con problemi di ricezione del vecchio segnale analogico per predisporre gli interventi tecnici preparatori al passaggio al digitale, ma anche il governo deve fare la sua parte. Abbiamo chiesto in sostanza due cose, uno di rimandare lo switch off perché è troppo presto fra due mesi e l'altro è che il governo metta delle risorse perché non si può fare uno switch off in Toscana a costo zero. A supporto delle richieste di Uncem, gli onorevoli del PD Ermete Realacci e Raffaella Mariani hanno presentato un'interrogazione parlamentare. È chiaro che ci sono molte cose di cui tener conto, incluso un contenzioso che si è aperto con la Francia per quanto riguarda l'interferenza dei segnali. Noi in ogni caso presentiamo questa possibilità anche per dire se lo fate assicurateci che venga fatto bene perché se uno poi deve far finta di fare questo passaggio e poi trovarsi con centinaia di miliardi di cittadini che non ricevono il segnale, con una penalizzazione delle televisioni locali e quindi con una situazione in cui la gente ha meno libertà di prima, avendo magari speso anche dei soldi, non mi sembra una cosa ben fatta.